Si fa sempre più interessante la lotta al vertice del campionato di promozione Girone A, dove da due settimane la leadership è in mano al caricatidimista Giovanni Falsone, capace di rimontare la differenza di punti con Raffadani e portarsi a più quattro sulla diretta concorrente, la squadra allenata da Alfredo Mattina. Con una partita da recuperare, quella contro la Sanchez, di domani in trasferta a San Giuseppe Iato. Ma anche Raffadani domani tornerà in campo alle 15 al Comunale di Grotte per recuperare la gara contro la Libertas, che era stata sospesa a gennaio per impraticabilità del terreno di gioco. I biancorossi canicattinesi mantengono la vetta dopo 21 giornate grazie alla vittoria netta contro il Ravanusa del presidente Dino Farruggio. Risultato classico, rotondo, 2-0, con reti di Falsone, Tanio, il figlio del mister, e Tarantino. I derby sono partite strane, commenta mister Falsone, non vince mai la più forte. Tutti ci vogliono battere, tanti ex. Tra le file di Ravanusa ci sono anche alcuni giocatori che hanno fatto l'eccellenza. Complimenti a loro, alla società, all'allenatore. Ci hanno tenuto sulla corda fino alla fine. La chiave di svolta è stata l'inversione degli esterni che ha mandato in bambola gli ospiti. La linea difensiva del Ravanusa comunque ha tenuto bene. Gli esterni, D'Antona e Sergio Gerrana, sono stati impeccabili nel contrastare le trame offensive del canicattì. Piccirillo e Di Bella hanno avuto un gran da fare nel gioco aereo, ma hanno ben contenuto i tentativi di sfondare di pirrotte e compagni. Termini ha onorato il campo, nonostante avesse una frattura alla mano, è stato sfortunato in occasione del primo gol che a distanza ravvicinata stava per sventare. Il centrocampo è il reparto dove Ravanusa ha sofferto di più e dove il canicattì ha dimostrato la sua superiorità. Di Salvo e Giardina hanno lottato su ogni pallone, ma non sono riusciti ad imporsi, a fare guadagnare metri alla propria squadra. Non era la partita dove potersi concedere leziosità. In attacco, il tridente composto da Cimino, Gerrana e Merlo, ha sentito più del dovuto il peso della partita. Ai due esterni è mancato lo smalto, che ridente incisivi e determinanti. Merlo è stato bravo nel fare pressing, ma poco valorizzato nella fascia. offensiva. Andiamo alle altre gare. Il Raffadari di mister Alfredo Mattina ha battuto la terza forza del torneo, il Castellamare, per 2-1 grazie alle reti di Sant'Angelo e Priolo. Le lunghezze del canicattì su Raffadari rimangono invariate a quattro punti. Domani, come detto, il Raffadari recupera la gara a grotte contro la Libertas. Scaccomatto del Casteltermini, ultima in classifica sulla Libertas, che nelle ultime settimane non si riconosce più. Due sconfitte nelle ultime giornate contro la prima e con l'ultima della classe del girone A di promozione. Decide un rigore, esiglato da Vaccaro al ventitresimo del primo tempo, procurato da Seieva, che era stato atterrato in area racalmutese. C'era tutto il tempo per recuperare, ma la squadra di mister Consagra è irriconoscibile. Così ne approfittano i Granata, che infriggono una dura lezione al team ospite. Gli ospiti chiudono in dieci per l'espulsione di Moreno Tartaglia. Non ci voleva, perché domani c'è il recupero con Raffadari e Moreno non ci sarà. Il Menfi ha pareggiato a Trapani con il Cinque Torri 1-1, stesso risultato, per il Ribera contro il partinico di mister Mimmo Bellomo. Infine la sconfitta con polemiche per il Camarat contro il Salemi. Un arbitraggio scandaloso costringe il Camarat, impegnato in casa col Salemi, al nervosismo tanto da chiudere la gara in otto uomini. Al di là della sconfitta che ci può stare, quello che è successo al Salaci di Camarata ha davvero dell'incredibile. Il signor Giordano della sezione Aie di Palermo ha costantemente fatto nervosire i giocatori di casa che purtroppo hanno ceduto alle provocazioni del fischietto panermitano. Espulsi, scrollanza e ad erre per il Camarat. E mister Paolo Scalia alla fine del match si è detto molto amareggiato. Se questo è il calcio, questo mondo non mi appartiene, ha detto l'allenatore liberese. Domani, oltre a Canigati e Libertas, recupera la gara non disputata anche in Ribera contro il Cinque Torri Trapani.